Salve a tutti, sono sempre Luca Romagnolo. Posso bere una birra? Tu vuoi birra? Questo è il mio terzo giorno di addio al celibato. Non ricordo un granché di questo weekend, ma mi hanno detto che è stato un weekend a leoni. Amore, non ti preoccupare. Per il conto corrente ci penso poi io quando torno a casa. L'addio al celibato, per quanto stupido e inutile possa sembrare, rappresenta l'ultima delle follie prima del matrimonio. Tu parla, no beva? Le follie, però, devono essere fatte con le persone giuste. Il gruppo è dunque l'essenza di questa esperienza irripetibile. E al gruppo giuro solennemente di non avere buone intenzioni in merito ai loro prossimi eventuali addio al celibato. Ora mi rivolgo ad Alice. Per poter tornare a casa ho bisogno del tuo aiuto, solo tu potrai permettere il mio ritorno. In sala, dove ci sono i tuoi libri, vai, prendi il quinto libro a partire da sinistra. Vai alla pagina 157. Troverai una busta. Aprila. Dentro alla busta troverai un bigliettino. Devi commentare sotto questo video con le parole che troverai scritto su quel bigliettino, altrimenti non tornerò più a casa. Vai. Capito. Ti prego, aiutami. Capito. 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 Capito.